Eddie Brock è un giornalista, un giornalista che per qualche motivo ha sempre l'espressione da stralunato fissa in volto e ha una simpatica fidanzata che lo sveglia a cuscinate tutte le mattine e considerando che quest'attrice ha solo otto mesi più di me direi che si sta mumificando ad una velocità sorprendente. Qualcuno faccia qualcosa, fermatela. Da questa immagine in bassissima qualità non si capisce molto ma avendo visto il film al cinema vi posso assicurare che lì si potevano contare le rughe sparse ovunque. Comunque Eddie Brock come tutti i giornalisti non si fa i fatti suoi, ficca il naso dappertutto e ficca nasa di qua, ficca nasa di là, scopre del torbido che si nasconde dietro una grossa società chiamata Life Foundation che lui per qualche motivo non specificato già odiava da prima. Probabilmente perché è guidata da un antipaticissimo pakistano con la solita pettinatura da pakistano che non si fa scrupolo alcuno a calpestare morale e vite umane pur di conseguire strepitosi successi scientifici. In questo caso il damerino ha fatto ritornare dallo spazio una navetta contenente degli strani esseri viventi dalle sembianze di melma mobile e dotata di una coscienza. Questi esseri alieni sono dei simbionti ovvero degli organismi che per sopravvivere hanno bisogno di attaccarsi ad altre forme di vita come degli specie di parassiti e Carlton Drake, questo è il nome del pakistano, vuole fonderli agli esseri umani così per vedere che cosa succede. È come un tenero ingenuo bambinone che gioca, che sperimenta per scoprire il mondo con la sola differenza che qui se lui sbaglia qualcuno muore male. Eh sì perché se il simbionte alieno non riesce a trovare un corpo ospite adatto il risultato è la morte di entrambi, una morte piuttosto dolorosa che come possiamo vedere è stata riservata anche a Manuel Agnelli. A un certo punto siccome Eddie Brock è andato a dar fastidio a questo ignobile e insopportabile ma molto influente individuo viene licenziato e con lui pure la sua fidanzata che quindi lo molla e si mette in tempo zero subito con un altro che nonostante sia un medico non è minimamente preoccupato dall'inesorabile vecchiaia che si sta facendo prematuramente e velocissimamente strada sul volto di Michelle Williams. Tuttavia una che lavora nei laboratori della Life Foundation siccome nessuno le ha mai proposto di farle fare qualche scatto in avanti di carriera in cambio del suo corpo perché piuttosto cessa per vendicarsi spiffera tutto a Eddie Brock e lo fa infiltrare nei laboratori dove il malcapitato entrerà in contatto con uno di questi simbionti alieni e così scopriremo finalmente a circa metà film che cosa succede quando la fusione fra esseri umani e simbionti funziona. Eddie ben presto inizia a sentire delle voci nella testa, crede di essere impazzito ma in realtà ormai è un tutt'uno con l'entità aliena Venom che gli dona un'agilità, velocità e forza superumane e lui pesta degli aggressori così come se nulla fosse usando questa melma come arma anche se sarebbe più giusto dire che è la melma a usare lui. Il bello è che lui non si stupisce di niente cioè è stato posseduto da un alieno che ti sistema le ferite, le ossa rotte, diventi un colosso di due metri e mezzo più forte, più agile, sollevi e sbatti via le persone come fossero fuscelli e niente. Non hai nessuna reazione spaventata, destabilizzata, sbalordita, sorpresa, un cazzo. Nemmeno una telefonatina alla redazione del programma tv Io e i miei parassiti. E così il mostro Venom è libero di andare in giro a scalare palazzi, di leccare crape pelate, di mangiare teste di rapinatori ma senza farci vedere nemmeno la più piccola gocciolina di sangue, mi raccomando perché se no poi guai, i bambini si impressionano e soprattutto riesce a convincere con facilità i vicini rocchettari ad abbassare il volume. La pacchia però per Venom finisce quando un suo compare simbionte, un certo Riot prende possesso del pakistano e il suo intento è ovviamente ritornare sul suo pianeta e portare poi qui altri milioni di simbionti al suo servizio per conquistare la terra e nutrirsi dei terrestri. Ma Venom glielo impedirà perché all'improvviso e senza una ragione apparente il pianeta e Daddy sembrano piacegli e glielo impedirà con una lotta dove per lo più non si capisce un cazzo. Comunque alla fine Venom riuscirà a danneggiare gravemente e all'ultimo momento l'astronave con a bordo Riot il quale finirà la sua carriera divorato dalle fiamme dell'esplosione. Daddy e Venom misteriosamente non si sa come si salvano e si rimettono con la vecchia. Fine.